Si rinnova a Popoli l'appuntamento con la mostra concorso dedicata a Corradino D'Ascanio, illustre cittadino popolese inventore della vespe dell'elicottero. Crea e ricrea con Corradino e il titolo dell'iniziativa, giunta alla quarta edizione, promossa dall'Istituto Omnicomprensivo di Popoli e dal Comune, protagoniste le classi seconda e terza media della Val Pescara e della Valle Peligna con la realizzazione di lavori creativi. In particolare Popoli, Tocco, Torre dei Passeri, Pescara 2 e Pratola. I lavori sono molto diversi tra loro, ci sono lavori informatici con software di ultima generazione, lavori invece che vedono una manualità e una creatività di tipo diverso. I lavori resteranno in esposizione alla taverna locale di Popoli fino a venerdì prossimo 16 giugno per essere valutati da una giuria tecnica e per essere votati dai cittadini. Nello specifico verranno infatti stilate due distinte graduatorie. È un'edizione particolare, un'edizione un po' nuova quest'anno perché non solo vogliamo ricordare la figura di Corradino d'Ascanio che è stato il fondatore di questa nostra scuola, di questo istituto scolastico, ma soprattutto quest'anno avviamo con il progetto di alternanza scuola-lavoro una nuova fase, una fase in cui i nostri ragazzi redigono dei fumetti, questi fumetti verranno pubblicati ed inoltre avremo anche la possibilità attraverso un sistema software abbastanza avanzato di creare delle app che consentiranno durante il corso dei prossimi anni di apprezzare meglio la figura di Corradino d'Ascanio attraverso un sistema multimediale. Le premiazioni del concorso scolastico Crea e Ricrea con Corradino avverranno in un'apposita cerimonia che si svolgerà all'inizio del prossimo anno scolastico. Molto probabilmente saranno presenti anche le nipoti che ci hanno promesso di venire a consegnare personalmente quest'anno il premio ai vincitori. Gli studenti guardano con particolare attenzione a queste iniziative volte alla valorizzazione del personaggio simbolo di Popoli. La figura di Corradino d'Ascanio si inserisce bene in ogni progetto portato avanti dalla scuola con la speranza che da questa scuola possano uscire dei grandi inventori come D'Ascanio.